Adesso la nostra seconda pop star è tutta un'altra storia. A lui qualche volta piace essere re indiscusso delle trasgressioni. Ma questa settimana si è rimesso in riga in modo davvero impressionante e merita di essere premiata. E' un ragazzo che lavora duramente e giorno dopo giorno ci ricorda che è una star con un cuore che bate a un ritmo forte e vigoroso. Infatti da due mesi è il primo sul nostro tabellone delle stelle d'oro. Grazie per i tuoi impegni continui, Alessandro. Grazie per i tuoi impegni. Grazie per i tuoi impegni.